La Regione Basilicata deve fare chiarezza sui conti delle società partecipate per rendere trasparente il loro reale stato di salute economico-finanziario. Ad affermarlo è stato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Napoli, durante la presentazione alla stampa di una mozione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assise regionale. La mozione, firmata anche dal consigliere Castelluccio, impegna la giunta regionale, previo dibattito sul tema degli organismi partecipati, a distituire una commissione d'indagine che accerti, se ci siano state delle condotte gestionali ed organizzative, non conformi alla normativa vigente. Sotto la lente di ingrandimento, hanno spiegato i consiglieri di Forza Italia, ci saranno gli organismi partecipati come le ATER di Potenza e Matera, che spesso non riescono ad esigere i propri crediti, pur riportandoli a bilancio. Una serie di possibili criticità che, concludono i consiglieri, non possono che riverberarsi sui conti della regione basilicata. Presente all'incontro con la stampa, anche il consigliere Giuzio del PD, che nei giorni scorsi aveva proposto un dossier sull'argomento in seconda commissione.